Inizia oggi in Corte d'Assise il processo per rissa aggravata che ha portato all'omicidio di Vito Caputo, 29enne di Mola di Bari, accoltellato il 16 marzo scorso a Capurso durante un litigio nel quale non era direttamente coinvolto. Tra gli imputati ci sono Renato e Pietro Canonico, padre e figlio di 50 e 26 anni, quest'ultimo accusato di omicidio e tentato omicidio. Tra i coinvolti nel processo anche Fabio Domenico Chiarelli, accusato di violenza privata aggravata e violazione della sorveglianza speciale. Il litigio sarebbe avvenuto a causa di un contrasto tra Pietro Canonico e la sua ex compagna per modalità di visita al figlio di entrambi. Dopo l'incontro tra la coppia avvenuto nel comune di Cielammare, sarebbe arrivato Chiarelli, nuovo compagno della donna, insieme a Vito Caputo. I due avrebbero cercato di intimidire Canonico speronandolo con l'auto e inseguendolo fino a Capurso, dove poi è scoppiata la rissa. Pietro Canonico, secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe colpito con un coltello Chiarelli fino a ferirlo e Caputo, deceduto dopo 12 coltellate. Canonico e Chiarelli sono stati arrestati il 13 settembre scorso.